bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono kino e oggi vi porto un nuovo video contest visto che la settimana scorsa numero il commento con maggior numero di like è stato riguardante la macchina da scrivere siete stati tantissimi che avete scomentato la macchina da scrivere raga non so come mai ma la macchina da scrivere io già ce l'ho al 106 full perk quindi mi avete tra virgolette facilitato il lavoro adesso non devo fare altro che potenziarla al 130 e regalarla a cinque di voi però attenzione voglio lanciare una nuova sfida voglio ogni settimana voglio fare un nuovo contest come ho già annunciato in live per chi mi segue e cosa succederà ogni settimana su questo contest potenzierò un'arma adesso vedrò poi anche due se riesco in base alle mie risorse che deciderete voi nei commenti quindi ogni volta che farò il contest sotto questi commenti voglio anche che qualcuno commenti con la prossima arma da potenziare in modo che possiamo fare il contest la prossima settimana detto questo poi ci saranno ovviamente anche tutte le live che sto facendo che insieme a reclaus dove viveremo altre armi e altre mille occasioni quindi raga non preoccupatevi e restate sempre aggiornati allora potenziamo subito la macchina da scrivere al 130 e li cambiamo anche una perca vediamo si li cambiamo questa allora raga vi spiego brevemente come l'ho percata gli ho aggiunto una perk di probabilità di critico che in realtà è sbagliata la traduzione sarebbe danno critico e in pratica dovrebbe aumentare il danno critico non gli ho messo un'altra perk di probabilità perché si andrebbe a sommare su quella che c'è ora quindi non è conveniente non raggiungerebbe cioè non aumenterebbe la probabilità di tanto sempre un colpo su tre sarebbe critico quindi ne andiamo aumentare il danno critico andiamo subito a provarla insieme raga eccoci qua allora allora cerchiamo subito eccola qua ne crasto immediatamente una e ricordo raga a 100 like estrarò 3 vincitori a 200 like ne strago 5 e do tempo fino a domani raga senza preoccupazioni quindi non dovrete fare altro che commentare nei commenti commentare nei commenti scrivere nei commenti hashtag macchina a scrivere estrarò a 100 like casualmente 3 di voi e se in caso il video raggiungerà 100 like 5 di voi poi ci sarà comunque la live di oggi pomeriggio ci sarà la live di fine settimana raga dove gibberemo quindi non preoccupatevi se non vincete perché ci sarà anche un nuovo contest la settimana prossima allora raga proviamo direttamente la macchina a scrivere sento uno smasher da qualche parte e vabbè e vabbè raga è devastante vabbè comunque si sapeva che è una delle armi assolutamente più forze del gioco e comunque ha pure tanti colpi nel caricatore quindi raga nei commenti hashtag macchina a scrivere per poter vincere questo contest vi ricordo a tutti di aggiungermi sempre agli amici di epic chino con la k trattino quello in mezzo e non quello in basso tv comunque lo aggiungerai in sovraimpressione nel video e ci vediamo nel prossimo video raga buona fortuna a tutti spero che partecipiate in molti e che possiate vincere piano piano tutti quanti bella raga buona fortuna a tutti